Non è certo rimasta priva di reazioni la dura pressa di posizione del primo cittadino di Gioia Tauro. Giuseppe Pedà, all'indomani dell'approvazione in giunta regionale dell'accordo di programma per il finanziamento di corsi di formazione destinate ai lavoratori MCT, l'azienda terminalista dello scalo gioiese, è incentrati in questa prima fase su una riqualificazione professionale che in caso di esuberi consentirebbe a centinaia di loro di poter transitare nella nuova fabbrica di auto prossima ad insediarsi nell'area industriale. Non firmerò mai la ricollocazione, aveva affermato il primo cittadino di Gioia Tauro. I portuali devono fare i portuali, se mai dovesse partire un'iniziativa per la produzione di veicoli dovrà impiegare forza lavoro nuova. Un concetto che va a ribadire quanto già ampiamente espresso nei mesi scorsi su una auspicata stabilizzazione del lavoro all'interno della grande infrastruttura commerciale, che potenzialmente sarebbe in grado di aumentare l'occupazione. Così come precisato, a scanso di equivoci, per il sindaco non vuol dire dichiararsi contrari a investimenti che di certo produrranno benessere, e nemmeno negare una prospettiva agli operai dell'ex Isotta Fraschini. Ma difendere lo scalo da un ridimensionamento che alla luce del trend attuale appare annunciato, e mentre Pedà apre un nuovo fronte, tra i sindacati si registrano opinioni discordi, con il sul che sembra sposare in pieno il punto di vista appena sintetizzato, e la triplice che valuta di fondamentale importanza il rilancio delle politiche attive tanto rivendicate, mentre l'UG è l'emare che assume un atteggiamento attendista. La posizione di Pedà è del tutto condivisibile, ha dichiarato Carmelo Cozza, segretario regionale del Sul. Non ci possiamo appiattire sulle posizioni di MCT, ma dobbiamo lavorare affinché si creino le condizioni per assorbire tutto l'esubero al termine del periodo di ammortizzatori, tenuto conto che le banchine sono sfruttate al 70% e che perciò il porto ha enormi potenzialità. Il polo automobilistico deve garantire nuova occupazione e viceversa sarebbe una sconfitta. Sulla stessa linea il segretario della Filt GGL Piana, Domenico Laganà, che però evidenzia il valore delle iniziative a sostegno del reddito e del reinserimento lavorativo. Il porto è così grande che può assorbire tutti se non addirittura aggiungere unità, ha precisato. Il nostro obiettivo è riuscire a tenere gli operai dentro MCT. Poi è chiaro che i corsi di formazione devono avere un nesso e in questo periodo è stato gioco facile assorciarli all'apertura della nuova fabbrica. Spero sia solo una giustificazione di politiche attive che comunque rappresentano un sostegno alle famiglie di non poco conto. Pepperizzo, segretario generale della Will Trasporti, ha invece giudicato la sortita poco opportuna in questo momento, se ancora prima che l'azienda si insedi comincino a fare proclami o rivendicazioni rischiamo di far saltare il banco, ha rimarcato il sindacalista della Will. Altro è il fatto che bisogna riproporzionare il tutto alla situazione della Piana, ad esempio distribuendo le opportunità in modo eco tra disoccupati, ex-sotta ed eventuali esuberi, ma l'importante è che questa realtà si concretizzi. Il resto si vedrà dopo. Dello stesso parere Annibale Fiorenza, segretario generale della FIT CISL Calabria, Mi sembra inopportuno, in un momento di crisi così pesante, premettere di non poter offrire ad eventuali lavoratori in esubero altre opportunità, ha commentato. A parere della CISL, la Calabria, in particolare la Piana, non può che agevolare soluzioni occupazionali e contestualmente accogliere a braccia aperte investimenti produttivi che possono garantire stabilità. I lavoratori calabresi, tra questi portuali, non possono essere predestinati a vivere nell'incertezza e con ammortizzatori sociali perenni. E' importante che i corsi di formazione partano puntualmente, ha concluso, perché sono la conquista del sindacato che da sempre ha rivendicato politiche attive. Infine Francesco Cozzupoli, segretario regionale dell'UGL Mare, sostiene che non abbiamo avuto nessun approccio sindacale su questa vicenda, né con la Regione, né con il Ministero, né con i rappresentanti che stanno curando l'assetto della fabbrica. E prima di discuterne ha sottolineato vorremmo confrontarci con chi di competenza. Grazie. 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 Grazie.